I finanzieri del Comando Provinciale di Catania hanno tratto in arresto un individuo che trasportava circa 4 kg di cocaina a bordo di un'autovettura. Durante le operazioni di controllo in zona San Gregorio di Catania, i finanzieri hanno fermato un'auto guidata da un soggetto di origini nissene. L'andatura anomala del veicolo e la reazione nervosa del conducente hanno spinto a una perquisizione assistita da un'unità cinofila antidroga con il cane Escort. La ricerca si è concentrata sul paraurti posteriore dell'auto, dove grazie a un ingegnoso sistema di apertura della targa è stata scoperta un intercapedine contenente tre panetti di cocaina per un peso totale di circa 4 kg. I finanzieri hanno proceduto al sequestro della droga e dell'auto utilizzata per il trasporto, nonché all'arresto in flagranza del conducente. La cocaina sequestrata, se venduta al dettaglio, avrebbe generato proventi illeciti per oltre 700 mila euro. L'operazione svolta dalla Guardia di Finanza di Catania ha ricevuto convalida dei sequestri e dell'arresto da parte del GIP presso il Tribunale Tneo su richiesta della locale procura. Il detenuto è stato poi trasferito presso la casa circondariale di Piazza Lanza.